Sono pronto. Allora, volevo precisare un altro aspetto dell'Arts and Craft in Brera, insomma di questo vedimento che ci sarà fuori salone in San Carpoforo. Il colore, cioè il colore sarà un'esperienza sensoriale, cioè percorrendo la navata centrale della chiesa noi raggiungeremo l'illuminazione, la redenzione. E questo come avverrà? Avverrà perché entrando sarà ricostruita l'architettura religiosa in maniera così artistica, con una rete particolare. Però ci lasceremo, enteremo e ci lasceremo alle spalle i colori scuri, man mano che camminiamo, che rappresentano il caos creativo del fuori salone. Poi, in qualche maniera, passare sempre più verso i colori chiari, quindi il grigio, il bianco, e alla fine il verde. Il verde nei due transetti laterali e in l'abside e sarà appunto il sintomo della redenzione. Questo verde sarà inteso come green, quindi il futuro è nel verde, è nella campagna e quindi voglio lanciare così questa provocazione anche ai blog che, insomma, li invito a venire, a vedere e a capire se ho veramente poi comunicato questo concetto.